CGL, CISL e UIL attraverso una petizione popolare hanno raccolto 20.000 firme per chiedere di migliorare la sanità abruzzese. Nel documento che sarà consegnato alla Regione Abruzzo si chiede tra l'altro l'abolizione del super ticket, la riduzione delle liste di attesa, l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'avvio di una concertazione. Noi crediamo che per poter procedere bisogna completare gli assetti delle ASEE, quindi nominare subito i direttori generali e procedere ad assunzioni di personale perché con il turnover mancato in questi anni tante persone sono andate in pensione e quel personale non è stato rimpiazzato e in più con tutti i pensionamenti che arriveranno da quota 100 gli ospedali abruzzesi saranno completamente sguarditi. In questa condizione è difficile fare assistenza sanitaria. Segretario avete già iniziato ad avere un'interlocuzione con il nuovo assessore regionale della sanità? Sì, abbiamo iniziato, dobbiamo continuare, sono molte le questioni che sono sul tavolo e che devono avere una soluzione dei problemi. A partire dalla questione dell'abolizione del super ticket, la bocciatura che abbiamo avuto dal governo deve essere rivista, gli abruzzesi non possono continuare a pagare un super ticket che ricordo nasceva dal fatto che avevamo un bilancio commissariato, oggi non siamo più una regione commissariata per quello che riguarda il bilancio, per cui il super ticket gli abruzzesi non lo devono pagare più. Abbiamo avuto un primo confronto appena si è iniziato dalla giunta con il presidente Marsilio, abbiamo chiesto l'apertura di tavoli settoriali per parlare in generale di tutte le necessità che la regione Abruzzo ha per renderla più competitiva e dare maggiore incidenza alla produttività, a una sanità che funzioni. Da questo punto di vista ancora abbiamo avuto risposte soltanto parziali, ci sono tavoli che si sono aperti sporadicamente, ma manca quella sinergia, quella concertazione che noi sempre abbiamo avuto nei tavoli con tutte le giunte, sia di centrodestra che di centrosinistra. Questo per noi è un problema. Noi stiamo cercando e abbiamo fatto una richiesta al presidente Marsilio per capire se questo elemento di concertazione che è fondamentale con le organizzazioni sindacali confederali più rappresentative sia un elemento importante che deve continuare ad esistere. Noi rappresentiamo migliaia e migliaia di cittadini e pensiamo che questi cittadini abbiano bisogno di risposte da questa giunta che al momento ancora non sono date. Ci sono risposte parziali, date ora da questo o da quell'assessore, ma manca una politica complessiva della quale noi chiediamo conto. Grazie.